Malinovsky e sua moglie contro il suo ex club scopriamo insieme cos'è successo. Come sappiamo ragazzi sono ormai passati più di due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina. Malinovsky, calciatore di nazionalità ucraina, ci tiene a non far dimenticare tutto ciò. Ma lo fa in un modo particolare, attaccando duramente il suo ex club, l'Atalanta. Bergamaschi infatti per celebrare il gol segnato da Miranchuk con la nazionale russa. Hanno fatto questo posto in collaborazione proprio con la federazione russa. Dove appunto viene visionato il gol del centrocampista offensivo atalantino. Sotto però sono subito comparsi i commenti di Malinovsky e di sua moglie con vergognatevi e vergogna. Commenti ovviamente rivolti all'Atalanta. Ria di aver celebrato il gol di un suo tesserato. Tra l'altro l'Atalanta aveva ripubblicato il post anche su X, ex Twitter. Malinovsky aveva sempre risposto in questo modo e in quest'altro modo, sempre molto duro. Qui però ha smentito dicendo di non avere Twitter e Facebook.